buongiorno a tutti a tutti e benvenuti al primo appuntamento di questo breve ciclo di video tutorial dedicati alla piattaforma web del gruppo operativo SURF, sistema di supporto decisionale alla pianificazione forestale sostenibile. Questo gruppo operativo che aderisce al partenariato europeo per l'innovazione, il PEI Agri, è stato creato grazie alla misura 16.1 del PSR della regione toscana e sempre grazie al PSR della regione toscana con la misura 16.2 è stato finanziato un progetto pilota coordinato dall'Accademia Italiana di Scienze Forestali che è nato proprio per creare un sistema di supporto alle decisioni applicabile su tutto il territorio regionale toscano con un focus maggiore su sei aree pilota che scopriremo assieme. Questo sistema di supporto alle decisioni è contenuto all'interno di una piattaforma web che vi andremo qui oggi a presentare. Io sono Luigi Torreggiani di Compagnia delle Foreste e qui con me per spiegarvi passo passo tutte le funzionalità della piattaforma c'è Francesca Giandetti, ricercatrice dell'Università degli Studi di Firenze che ne ha proprio coordinato l'implementazione. Quindi innanzitutto buongiorno Francesca. Buongiorno Luigi e buongiorno a tutti quelli che seguiranno questo ciclo di video tutorial che speriamo vi portino a utilizzare la nostra piattaforma. Bene, allora inizio io Francesca dicendo molto brevemente che questo sistema di supporto alle decisioni e la sua relativa piattaforma web sono stati realizzati appunto dal gruppo operativo SURF con un grande diciamo obiettivo generale, principale, che è quello di fornire degli strumenti utili per estendere la superficie forestale pianificata in Toscana, pianificata sia a livello aziendale che di secondo livello, quindi a livello più ampio, contribuendo quindi a migliorare la gestione forestale in un'ottica di maggiore sostenibilità e anche di diminuire quelle aree forestali che sono attualmente in stato di abbandono. Il gruppo operativo ha voluto costruire uno strumento innanzitutto gratuito, semplice e intuitivo ma al tempo stesso anche complesso perché è basato proprio su modellistica spaziale e algoritmi innovativi. È una piattaforma costituita, come vedremo assieme in questo ciclo di tutorial, sia da dati forestali che erano già disponibili, però magari erano dispersi, quindi qui sono stati aggregati assieme, che sono stati messi insieme all'interno della piattaforma a nuove stime, a nuove mappe, a nuove elaborazioni che sono state realizzate proprio nell'ambito del lavoro del gruppo operativo. Questo strumento potrà diminuire i costi della pianificazione, aumentare i boschi correttamente gestiti, dando quindi vita a una nuova forma di governance per le foreste toscane dove appunto la pianificazione di area vasta può essere direttamente integrata anche con quella di scala aziendale. Fatta questa premessa Francesca entriamo nel vivo e ti chiedo di spiegarci innanzitutto, proprio dal punto di vista pratico applicativo, cosa si potrà fare con questa piattaforma e quindi di conseguenza anche a chi è rivolta. Come hai già detto benissimo tu, la piattaforma mira a trasferire parte delle conoscenze sviluppate nel campo della ricerca agli operatori che si occupano di gestione forestale, ma non solo, ma anche ai libri cittadini che sono interessati a conoscere più da vicino ai nostri boschi e la loro gestione. Tutto questo è declinato attraverso uno strumento di facile utilizzo che non richiede competenze elevate di programmazione modellistica, cosa che è richiesta ai ricercatori ma non agli operatori, ma che con pochi e semplici click ed un'interfaccia semplice che restituisce informazioni di dettaglio sugli indicatori forestali, fa sì che algoritmi complessi siano in realtà disponibili per tutti quanti attraverso delle semplici mappe che siamo tutti quanti abituati ad utilizzare anche sui nostri cellulari. Queste mappe da parte loro sono state realizzate con processi complessi, quindi algoritmi che integrano di a terra, dati geografici, dati rilevati da diversi strumenti come da drone, da satellite e da aereo, di diversa natura, quindi si parla di immagini satellitari piuttosto che di dati fotogrammetrici, ma quello che fa la piattaforma è che l'operatore che la utilizza non si deve preoccupare di tutto questo, perché l'interfaccia è semplice e quindi non c'è bisogno di capire i processi modellistici che integrano anche in alcuni casi come per esempio sull'incremento medio legnoso di volume, anche dati climatici o dati dagli torri di covariance, quindi dati molto complessi, in una piattaforma semplice, con un'interfaccia semplice, in cui ci siamo concentrati sull'avere pochi click per avere un'informazione di dettaglio, mettendo anche insieme non soltanto dati che sono stati sviluppati e che sono stati sviluppati anche grazie al progetto GoSurf, quindi al gruppo operativo del surf, ma anche dati che esistevano già, che erano disponibili in regione, ma che erano magari non accessibili così semplicemente, che dovevano essere cercati all'interno di varie banche dati, e questo attraverso questa interfaccia che poi vedremo più da vicino anche nei prossimi video, che è molto semplice. Quindi in realtà l'idea era quella di trasferire insomma queste competenze della ricerca in modo semplice e fornire ai gestori forestali, ma anche ai libri cittadini queste informazioni, anche in un'ottica di gestione forestale multiobiettivo, quindi non solo da un punto di vista produttivo. Bene, grazie Francesca. Quindi abbiamo capito gli obiettivi e l'utilità della piattaforma, ora entriamo nel vivo e appunto cerchiamo di capire come è stata costruita nel tempo, in questi mesi di lavoro del progetto. Quindi ti chiedo anche di spiegarci un po' qual è stato il lavoro che ha visto impiegati tutti i partner del gruppo operativo negli scorsi mesi. Citiamo ovviamente l'Università degli Studi di Firenze, ma anche il Crea Foreste Legno, il CNR, gli studi RDM e DREAM, lo studio Demetra e poi anche tutti gli altri partner territoriali. Insomma è stato un lavoro di gruppo, un gruppo operativo, che insomma è arrivato a questa piattaforma, ma dopo mesi di attività. Spiegaci un po' cos'è successo all'interno del progetto. Allora prima di tutto dobbiamo ringraziare la comunità europea che ha stimolato la nascita di gruppi operativi che sono gli AP Agri Group, che sono sviluppati anche a livello europeo in altre nazioni e l'Italia è stata una di quelle che ne ha più usufruito anche e soprattutto nel settore forestale. Questo ha consentito di creare quello che la comunità europea voleva, cioè quindi creare gruppi operativi formati da tutti gli attori della filiera che dovevano essere per forza, per creare un gruppo operativo, ci dovevano essere dentro aziende agricole, associazioni che si occupassero comunque anche di gestione forestale, istituti di ricerca, cioè era proprio richiesto dal bando per poter partecipare e anche, perché no, aziende che si occupano di comunicazioni e che consentano ai gruppi operativi di uscire dal partenariato e andare anche oltre agli altri attori della filiera. Quindi prima di tutto la comunità europea ha investito in questo e l'Italia e la regione toscana sono stati molto bravi a recepire questa misura che in altre, per esempio, regioni non è stata attivata. Quindi tutti i partner in realtà rappresentano un po' tutti gli attori della filiera perché esiste l'Accademia Italia delle Scienze Forestali che coordina il partenariato e che quindi fa da cappello, insomma, a tutti gli altri che poi sono sotto. Ci sono tre istituti di ricerca che nel particolare Unifi, Crea e CNR si sono occupati principalmente di generare i dati e di sviluppare la piattaforma, quindi che andremo a vedere nei prossimi video e per rendere questi dati che sono disponibili ormai anche da tempo, diciamo, nel campo della ricerca, disponibili a tutti. In più, RDM e DREAM hanno lavorato ad una parte molto importante per la gestione forestale sostenibile e purtroppo in Italia ancora non abbiamo una carta delle tipologie forestali ma ora si sta muovendo qualcosa, sono uscite le gare per fortuna per standardizzare questo. E RDM e DREAM hanno fatto un lavoro molto importante. Prima di tutto RDM ha lavorato alla standardizzazione, al passaggio delle chiavi di nomenclatura delle varie tipologie forestali, questo perché sono importanti nel momento in cui si richiede un'autorizzazione, per esempio attraverso i processi autorizzativi è necessario indicare quale sia la tipologia forestale e quindi ha lavorato anche a un passaggio dei quattro sistemi di nomenclatura che esistono sul territorio toscano, sui dati geografici che attualmente abbiamo, quindi abbiamo sia le tipologie forestali della Toscana che sono richieste in fase di autorizzazione o dichiarazione o di piano di gestione all'interno dei moduli autorizzativi, però abbiamo anche la necessità di riportare per esempio le tipologie forestali europee nell'ambito dei piani, diciamo dei framework internazionali, a livello europeo per esempio Forest Europe richiede l'utilizzo di queste tipologie, poi abbiamo le tipologie fornite dal Corinne Cover che hanno ancora un altro ulteriore sistema di nomenclatura e a questo si aggiungono anche le nomenclature dell'inventario forestale nazionale, che si parlano ma non sempre le classi sono così agganciate, quindi RDM ha lavorato per questo, per standardizzare i passaggi di nomenclatura che sono molto importanti qualora si debbano utilizzare i dati per ricavare più informazioni e dettagli diversi a seconda di chi ci richiede questi dati, mentre DRM ha lavorato al vero e proprio fotointerpretazione di queste tipologie all'interno delle sei aree test, sarebbe stato bello poterlo fare in tutta la Toscana ma questo non era consentito nel budget che avevamo a disposizione e quindi abbiamo comunque testato il passaggio di queste chiavi di nomenclatura delle tipologie forestali all'interno di queste sei aree pilota che poi vedremo dopo, mentre il compito di Accademia Italia delle Scienze Forestali e DRM è stato quello invece di creare, di coordinare l'intero gruppo, perché DRM ha coordinato anche la parte di co-coordinamento e anche di creare networking con altri progetti a livello italiano e a livello europeo, infatti anche a livello italiano altre GO hanno lavorato allo sviluppo di sistemi di supporto delle decisioni, ci siamo coordinati soprattutto anche come istituti di ricerca per capire come potevamo essere simili e quindi è stato molto importante. Poi ci sono i veri attori che operano nella gestione forestale vera, ci sono la Selva e i Pini che in cui le aree test da loro direttamente gestite attraverso piani di gestione o piani dei tagli hanno subito una variazione, quindi il sistema di supporto delle decisioni è entrato a far parte o entrerà perché stiamo finendo, abbiamo finito adesso la sua implementazione nella loro gestione quotidiana di piani di gestione e Alma Ceres che è una cooperativa un po' più grossa che invece, anzi scusate, i Pini che è una cooperativa un po' più grossa che andrà a utilizzare questo sistema per esempio per capire laddove si possono comprare i boschi in piedi per fare dei prodotti forestali. Quindi tutto questo è stato possibile anche testando il sistema da parte di chi effettivamente lo utilizza ricevendo poi dei feedback per correggere alcune cose in corsa. È chiaro che il sistema poi può essere scalato e vedremo come anche ad altre realtà. Benissimo, grazie Francesca. Quindi è stato un lavoro complesso, un lavoro di squadra come avete capito che parte dagli istituti di ricerca e arriva fino alle cooperative, alle imprese, alle aziende agricole che poi lo mettono in pratica proprio sul campo. Però Francesca, finora abbiamo parlato di piattaforma al singolare in realtà le piattaforme sono due e saranno tra l'altro appunto l'oggetto dei prossimi due video uno ciascuno per capire appunto come funzionano. Ecco, spiegaci le differenze come mai ci sono due diverse piattaforme e quali sono le differenze tra la prima piattaforma e la seconda. Sì, esatto. In realtà, diciamo, la piattaforma è una ma ha due vestizioni grafiche, due utenti diversi che possono accedere a varie informazioni. Questo perché durante questa vita del GoSurf in realtà la ricerca è andata ancora più avanti grazie anche allo sviluppo di piattaforme di cloud computing alla possibilità di avere a disposizione i dati dell'inventario che nel momento in cui abbiamo scritto il progetto non c'erano. E quindi questo ha spinto in realtà tutti quanti a fare qualcosa in più rispetto a quello che avevamo promesso all'interno del progetto. E quindi a rendere disponibile non soltanto nelle aree test nelle sei aree test che avevamo individuato le aree di investimento così chiamate all'interno del PSR della misura 16.2 ma a fornire anche a scala di regione cioè quindi su tutto il terricettorio regionale delle informazioni importanti e standardizzate a livello forestale. In particolare abbiamo lavorato per rendere disponibili informazioni di primaria importanza quando non si conosce niente del bosco quindi soprattutto in quelle aree che avevamo detto all'inizio di abbandono o quelle aree piccole dove magari i costi di acquisizione di nuovi dati costano molto e quindi grazie alla possibilità di avere l'inventario forestale del 2005 poi vedremo sarà nostra cura ora sono stati rilasciati anche dati del 2015 quindi aggiornare queste mappe cioè quindi non è che il sistema si fermerà qui ma sarà cura degli istituti di ricerca aggiornare questi dati qualora ce ne sia la possibilità visto i nuovi dati a disposizione siamo riusciti anche a stimare su tutta la regione toscana gli indicatori per esempio di biomassa provvisione legnosa, incremento e area basimetrica su tutta la regione non solo nelle aree test e quindi questo ha portato a una duplice piattaforma una aperta a tutti quanti in cui forniamo queste informazioni e poi la vedremo nel corso dei prossimi video e poi una invece più di dettaglio per le aree test in cui non abbiamo avuto soltanto a disposizione i dati dell'inventario 2005 ma anche i dati rilevati a terra e dati che le rilevati a più alta risoluzione acquisiti o da droni o da leader che ci hanno permesso quindi di ricavare informazioni su questi indicatori di gestione forestale sostenibile più di dettaglio con errori minori questo non significa che la piattaforma non sia scalabile anzi può essere estesa l'approccio che abbiamo avuto adesso anche l'infrastruttura informatica creata in realtà può essere replicata anche per altre aree laddove ci sia la possibilità come nel caso delle aree test di avere dei dati a disposizione che purtroppo attualmente non abbiamo su tutta la regione le tipologie forestali per esempio o la viabilità che come vedremo sono dei parametri importanti su alcune mappe sono implementate nelle aree test come la mappa delle accessibilità o la mappa degli assortimenti cosa che non avendo questi dati a scala regionale non c'era possibile implementare ovunque però diciamo le aree test funzionano e qualora ci fossero questi dati a disposizione su tutta la regione in realtà queste informazioni potrebbero essere poi ampliate diciamo ci sono due due prototipi uno dei dati che si possono attualmente avere su tutta la regione e saranno disponibili per tutti e questi dati sulle aree test saranno disponibili per i partner di progetto Benissimo quindi la buona notizia è che anche al di fuori delle sei aree pilota comunque abbiamo una base informativa solida, aggiornata che magari in un prossimo futuro potrà essere anche implementata mentre per le sei aree pilota abbiamo un dettaglio maggiore dove effettivamente questi dati che hai citato si possono veramente utilizzare fin da subito per pianificare per gestire queste aree ricordo che le sei aree pilota sono la Selva in località Pizzorne Villa Basilica quindi provincia di Lucca poi sono Monte Morello Rincine la foresta di Vallombrosa in località Mensano a caso di Dersa in provincia di Firenze e poi sono le Pinete di Torane di Grosseto e Castellion della Pescaia in provincia di Grosseto bene Francesca direi che abbiamo capito in generale gli obiettivi del progetto come sono suddivisi appunto le informazioni nelle due piattaforme il lavoro che c'è stato a Monte di quello che vedremo nei prossimi video quindi direi che possiamo darci appuntamento al prossimo video il primo dei due video tutorial dove appunto parleremo innanzitutto della piattaforma aperta a tutti quindi la piattaforma che tutte le persone tutti gli utenti appunto addetti ai lavori e non solo possono utilizzare per andare a cercare quei dati che attualmente sono liberamente disponibili per tutto il territorio toscano quindi appuntamento al prossimo video Grazie a tutti